Ciao, siamo le redazioni di Energy Magazine. Per prima cosa vorremmo ringraziare il nostro amico Richard Romagnoli per averci coinvolto in questa bellissima esperienza. Questo sarà uno dei gesti che faremo per esprimere la nostra solidarietà alla ricerca contro la SLA. Per favore anche voi aiutate la ricerca. E adesso le nostre nomination. Nominiamo Deepak Chopra, Gary Quinn e Daniele Ruccia di Parigi. Siamo pronti? 3, 2, 1...